Buongiorno, saluti, bentrovati qui dall'Istituto Grandi di Via Rota, sede centrale, con il rappresentante degli studenti. Ragazzi, perché state fuori e non siete entrati a fare lezione? Oggi è sciopera nazionale e si sciopera sia per Italia e con gli studenti peschi, sia perché ci sono stati cambiamenti all'esame di Stato, non solo a metà anno, e quindi c'è a metà anno, quindi i ragazzi si troveranno a fare un esame per il quale non si sono preparati. Si propone sette giorni di prove. Esatto. Però questo istituto conta all'incirca 700 iscritti, qua ne vede una settantina, che c'è il successo? E' perché allora il 10% ad accettare, a far protestare? Allora, le quinte non sono entrate, quindi quello era il concetto. Ah, i diretti interessati, ecco perché non abbiamo una grande scelta. Esatto. Intanto, come proseguirete la vostra giornata? Credo che andremo a Napoli a sciopera, insieme agli altri, insieme agli altri. Esatto. Benissimo. I nostri buoni all'uomo, però che danno in questo posto le vostre idee, ci avete invitato, le mettiamo in onda e vediamo la popolazione. Grazie a me. Buona giornata. Buona giornata.